L'ex punto tappa, ora Museo Pier Maria Rossi, è stato concesso dal Comune al signor Giuseppe Bigliardi. Ora esso si appresta ad ospitare una serie di eventi artistici. Per primo gli artisti bercitesi, ma non solo, avranno la possibilità di partecipare con le loro opere ad un evento importante come la Biennale di Roma. A dare questa opportunità è il Museo Pier Maria Rossi, di Strada Romea 5, che in collaborazione con il Centro Internazionale Artisti Contemporanei, ha organizzato una mostra di selezione per opere di pittura, scultura, grafica digitale e fotografia. La mostra si terrà nelle sale del Museo dal 25 aprile al 4 maggio e si concluderà con la proclamazione di tre artisti che porteranno a Roma le loro opere dal 10 al 15 maggio nella Galleria Agostiniana, sede della Biennale. La selezione non richiede alcun costo di iscrizione, mentre gli artisti vincitori dovranno versare un contributo di 70 euro per spese di segreteria e spedizione. È richiesta una sola opera con due temi di preferenza, cioè soggetti floreale o paesaggi, tuttavia l'organizzazione si riserve di accettare anche altri temi, previo contratto. Le opere vanno consegnate o inviate all'indirizzo del Museo Pier Maria Rossi, cioè Strada Romeo numero 5, dal 14 al 20 aprile prossimi. Ma gli artisti dovranno prima far pervenire la scheda di partecipazione entro il 30 marzo 2014 all'indirizzo mail segreteria chiocciolamuseopiermariarossitutottaccato.it. La scheda di adesione, così come il bando completo del concorso di selezione, in cui vengono forniti tutti i dettagli necessari per la partecipazione, è sul sito internet del museo all'indirizzo web www.museopiermariarossi.it. Una vera opportunità, questa sfida tra artisti contemporanei che potranno misurarsi in una selezione locale prima, mentre i tre che saranno proclamati vincitori saliranno su un palcoscenico internazionale come la Biennale. I tre vincitori della mostra bercetese saranno proclamati il primo maggio 2014 nella sede espositiva dopo un'attenta valutazione fatta da una giuria di esperti del campo il cui giudizio sarà insindacabile. Grazie.